Siete già a casa? Ed ecco il vino ovviamente dalla bellezza della nostra città. Credo che una cornice del genere ad Amsterdam ma in altre parti del mondo non ci possa essere. Noi siamo felici di presentarvi questa maglia, questa maglia sarà la loro pelle, come dicevo prima, nel corso dell'anno, nel corso della stagione 2012-2013, ragazzi sembrano carichi, sono pronti per partire per il ritiro e noi ci auguriamo che tutti siano pronti, anche la città di Firenze sia pronta per affrontare un nuovo campionato che sarà difficile ma speriamo che ci porti delle soddisfazioni. Grazie veramente a Roma per aver confezionato queste maglie e per aver iniziato questo matrimonio. ma non poteva mancare stasera colui che manderà in campo questi ragazzi e che ha già iniziato ad allenarli e a motivarli per una nuova stagione. In Firenze diamo il benvenuto a questo nuovo allenatore, Vincenzo Montella! Vincenzo Montella, dove stai? Questa è una prima cosa che ti permette di fare un coro che sentirei parecchio.